Arrestato un pregiudicato trovato in possesso di due borsoni pieni di droga e è caduto a Molfetta dove i carabinieri della locale stazione durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno attenzionato un giovane fermo nei pressi della fermata del bus in direzione Bologna già noto per essere stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Ebbene il 34enne era in possesso di un borsone e di un trolley i militari quindi insospettiti hanno deciso di sottoporlo ad accurato controllo e il giovane di fatti in evidente stato di sofferenza si sarebbe opposto alla richiesta da parte dei carabinieri di esibire il contenuto dei bagagli in suo possesso all'interno rintracciati tra gli indumenti un pacco incelofanato contenente marijuana per un peso complessivo di un chilo ma anche tre buste di cocaina di una confezione sottopressione così da evitare la fuoriuscita dell'odore per un peso complessivo di 100 grammi il tutto con probabilità destinato ad essere smerciato poi al nord Italia l'uomo avrebbe quindi asserito di non essere il proprietario dei bagagli e di non essere perciò in grado di fornire alcuna informazione i carabinieri lo hanno tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Trani e tradotto presso la casa circondariale di Trani